allora Cristian Capone prima esperienza in rosso verde arrivi immagino con tanta voglia di fare magari conoscerai già i record che hanno annellato la ternana lo scorso anno insomma le prime impressioni di questo gruppo di questa esperienza con la maglia rosso verde sì innanzitutto sono felicissimo di essere qua sono già un paio di settimane che aspettavo di aver la conferma di venire qua ho voluto fortemente venire qua per il progetto per la squadra come hai detto te l'anno scorso hanno fatto un campionato incredibile record su record e non vedo l'ora di iniziare a allenarmi con i compagni Cristian raccontaci un po le due caratteristiche sì sono un giocatore che piace spaziare in tutto il campo posso ricoprire sia il ruolo di seconda punta esterno sinistro anche anche a destra l'ho fatto in passato e però sono a disposizione del mister ovunque lui mi voglia mettere si prospetta un campionato di serie b molto difficile con diverse piazze di grande livello sì sì non so se c'è mai stato un campionato così competitivo come quest'anno ci sono sicuramente squadre rose molto forti a primo impatto si è vista subito la qualità della squadra sono sicuro che faremo un grande campionato e non vediamo l'ora di iniziare l'anno scorso con lucarelli gli esterni hanno fatto la differenza in particolare parte qui era stato il miglior giocatore della serie c tra gol fatti e assist un motivo in più per accettare la ternana sì sicuramente è stata anche la la prima cosa che mi hanno fatto notare che mi hanno detto che il mister lavora molto bene con gli attaccanti infatti come hai detto te l'esterno è stato il mio giocatore del torneo e sì diciamo che è stato anche una cosa in più per venire qua il mister pian piano inizieremo a conoscerci e sono sicuro che sarà un gran campionato tu porti anche esperienza di b in questa squadra sì ho solo 22 anni però già il quinto anno di serie b gli ultimi due anni a livello personale di squadra sono stati anni non facili non semplici ho voglia di rimettermi in gioco e sono sicuro che questa sarà un'annata importante è di una domanda che tra devo fare perché la tifoseria ternana immagino che ti ricorderà spesso la tua esperienza precedente con il perugia no raccontaci come è andata se poi hai avuto delle difficoltà insomma sì diciamo che due anni fa ho giocato a perugia e non è stata un'annata facile anche perché è venuta la retrocessione ero in prestito come quest'anno ma sono un professionista è stata sono già passati due anni nel passato sono concentrato solo sulla ternana e portare qualità e cercare di aiutare i compagni a vincere più partite possibile poi c'è il derby quest'anno quindi una una rivincita anche per te no potrebbe essere visto che comunque ti sei trovato bene penso che altro per la retrocessione diciamo sì quando retrocedi non puoi mai dire che è stato un anno positivo perché non è mai bello retrocedere e sì sarà una partita speciale rincontro dei miei compagni di squadra e non vedo l'ora come per un giovane crescere formarsi e lavorare in un settore giovanile come quello dell'Atlanta che da questo punto di vista è tra i migliori sì io sono arrivato a bergamo che ero un ragazzino e ho avuto la possibilità ora di iniziare con gasperini con prima squadra ci sono giocatori importantissimi negli ultimi anni hanno dimostrato cose importantissime e sono contento per la società e ora voglio di mettermi in gioco qua e poi magari in futuro un giorno magari tornare tu qui trovi a proposito di ex atalantini defendi nasce attaccante esterno l'anno scorso miglior terzino destro della categoria 35 anni tu dove vorresti giocare superati 33 34 diciamo che ancora non ci ho pensato non solo 22 spero di spero di continuare a giocare davanti perché mi piace giocare davanti però non si sa mai futuro magari potrei essere anche un buon centrocampista un terzino però va bene così però c'è qualcosa in questa ternana dell'Atalanta come modo di giocare come come carattere con anche con proprio come manovra come sì sicuramente è un calcio offensivo come come la squadra di gasperini è un gioco che punta sempre l'attacco e cercare sempre di verticalizzare e provare a fare più gol possibile e però diciamo che sono anche due moduli diversi e la ternana dobbiamo dimostrare ancora tanto l'Atalanta è ormai arrivato a livello da champions perché ogni anno arrivano al vertice e speriamo di fare bene dai grazie 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 mille grazie grazie